se volete facendo un bacio alla tua mamma perchè è un caglionino bravo i bacini alla tua mamma che mi hai preso per un croccandino? è un croccandino? mi è andato un croccandino per te ah? chi è la più bella? chi è la più bella del reame? mi ho letto chi è la bella perla? chi è la bella perla? chi è il croccandino? questo è il croccandino a bandierina chi è il croccandino? chi è il croccandino? chi è il croccandino? chi è il croccandino? una faccina truce? truce o trudi? forse una faccina trudi? ok non tipo il croccandino a bandierina sembra il croccandino e troppo e troppo e troppo ricorda è un croccandino bagnetto lei quando fa così vuol dire bagnetto quando si scuote tutta qual è il suo modo di dire bagnetto perché lei così dopo il bagnetto sta giù allora quando capisce che stiamo parlando del bagnetto lei lei partecipa dicendo sì sì bagnetto domani bagnetto domani bagnetto domani come sarà un un fuff un fuff ok saluta saluta fai ciao a presto proprio per un groscandino a presto proprio per un groscandino un groscandino un groscandino un groscandino un groscandino imponi